Sarà un venerdì difficile per i pendolari a causa dello sciopero generale dei sindacati Orsa e USB che hanno organizzato un'agitazione di 24 ore. Uno stop che riguarderà bus, tram, metropolitane, ferrovie, Roma-Lido, Termini-Giardinetti e Roma-Civita-Castellana-Viterbo. Le corse verranno garantite solo da inizio giornata fino alle 8.30 e poi nella finestra del rientro a casa dei pendolari dalle 17 alle 20. E se domani si prospetta una giornata nera per il trasporto locale, anche sabato le previsioni non sono da meno. È infatti in programma la manifestazione della CGL che ha scelto Roma come teatro della protesta nazionale per difendere i diritti dei lavoratori. Roma sarà la capitale non soltanto della protesta ma anche della proposta perché noi stiamo chiedendo un nuovo progetto paese che sappia rimettere al centro il lavoro. Il lavoro che va creato, che va salvaguardato, non bisogna fermarsi alla modifica delle regole del mercato del lavoro perché la semplice modifica delle regole come in questi anni si è dimostrata che ha prodotto tanta precarietà, disoccupazione, anche disoccupazione giovanile, oltre a tanta cassa integrazione e licenziamenti. Quindi abbiamo bisogno di ripensare a un lavoro che va creato attraverso gli investimenti, prendendo le risorse dai grandi redditi, dai grandi patrimoni, lottando l'evasione fiscale, la corruzione, altrimenti non tassando più le famiglie e le persone. Quindi sabato noi presenteremo queste nostre proposte e le presenteremo con tante tante migliaia di persone che arriveranno dall'intero paese e forte e sarà anche il contributo di Roma e del Lazio. I cortei della manifestazione saranno due. Il primo partirà alle nove da Piazza della Repubblica e dopo aver attraversato Piazza dei 500, Piazza Esquilino, Piazza Vittorio Emanuele II giungerà in Piazza San Giovanni. Il secondo partirà alla 9.30 da Piazzale dei Partigiani e si congiungerà al primo.